nella settima edizione di ciao darwin condotto da bonolis e laventi abbiamo avuto anche la premiazione attraverso i ciao darwin award dei premi che consistono appunto in un cespo di banali ovviamente false finte non vere adesso in questo video vi elencherò tutti i vincitori in quanto riguarda questi ciao darwin awards partiamo dal primo il vincitore nella categoria miglior look è stato fioravante acerno detto l'uomo di latta da paolo bonolis che vi ricordo è stato componente della squadra io so io contro i noi non semo il premio poi per la miglior performance è andato invece a francesco saverio nozzolino già attore della webserie di lori del santo sto parlando per l'appunto di the lady e protagonista della seconda puntata di ciao darwin quella che ha visto contrapposte due categorie molto diverse bucatini proprio di questa categoria ha fatto parte il buon francesco un simpaticone veramente e poi un premio speciale onan academy è andato a rosana sodre de faias della squadra degli stranieri la ragazza brasiliana che è stata memorabile presenza femminile interpretando la famosa scena dell'orgasmo simulando nel film r ti presento sebi ma il premio il più importante è certamente quello che è arrivato a lui il ministro di ciao darwin 7 fabio fidisetti detto ripeto il mistico che ha partecipato la prima puntata nel mondo dei diversi e che in quella sera diventò virare sul web e anche nei social con una pagina che è stata realizzata appositamente proprio su facebook insomma tantissimi i vincitori in questo in questi ciao darwin awards mi auguro che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi commentate e un saluto a voi tutti specifico che per ogni personaggio che ha vinto vi farò un video per presentarvelo molto brevemente grazie a tutti grazie a tutti